bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo bellissimo video oggi ragazzi inizieremo l'avventura su gans e vegas è molto bello e devo dire che un po g che un gt ama con la mod e quale mi starete chiedendo quale come posso dire volo in modo semplice e veloce beh tipo driftano fanno delle cose non ve lo faccio vedere insomma si scontano fanno questo vanno nelle altre parti vanno così fa fanno questo insomma fanno un po di tutto ecco io faccio tipo questo sono un bravo pilota se pure un altro da schifezza può saltare allora si può saltare dalle auto ma non c'ho voglia che bello ok è un po zombato e tutti possono scaricarlo è gratis su play store su ios tutto quello che volete è anche offline se non avete la connessione e non avete nessun gioco ma cosa fa visto che visto che noi siamo nell'aeroporto se guardate cosa si può fare addio auto guarda 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 un bel getto si può salire può fare questo prima si aziona la velocità guardate poi io faccio così zero 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 e poi cade guardate che cade adesso vado in questa vado in questa posizione ma un po più guardate qui guardate qui basso 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 vai basso ehm permesso si schianta aereo no 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 accidenti vabbè lasciamo stare va io ho trovato dolcemente per la prima volta sicuramente come prenderà fuoco adesso andremo con l'aereo sempre per strada ma capite il problema capite quanto è folle sto gioco gli aerei sono fatti per volare in cielo attraiamo sul tetto sul tetto per una volta che non ci sono mai attraiate ritorni indietro e ritorni ma no vabbè e e e e e e e e e rocker ok ora parcheggiamo ok ecco parcheggiato dolcemento non diciamo però sempre parcheggiato e si sconta si sconta si deve per forza scontrarsi un aereo un aereo oddio siamo su un tetto siamo su un tetto è qua proprio tetto 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 seguiremo i consigli da matti avremo una bella vita secondo me non dimmi che l'aereo è sparito l'aereo è sparito l'aereo è sparito mai un secondo farò qua dovrei fare a modo mio per scendere ma spero che ho l'attrezzatura diciamo di sì dai anche se non ce l'ho fatta cadere proprio proprio però ecco andiamo al più oh pensavo che diventa un venditore di hot dog hot dog si ma che salsicce sono ma che salsicce sono e che testa rasata che hai hot dog hot dog hot dog ma hot dog morite male hot dog morite male hot dog anche te pop corn aspetta che vi vengo a investire con l'auto haha morire male una macchina formula 1 tipo formula 1 formula 1 nessun'auto fa così ve lo assicuro ma neanche se ne accorgano di me che sono così veloce vabbè va velocissimo va veloce ok ragazzi abbiamo siamo un po' troppo criminali cioè abbiamo forse era meglio se non andava al centro ok sono esploso mi spiace ok ragazzi io direi di concludere qua fatemi sapere l'idea di gangster vegas se è bello o brutto per voi se i commenti sono sempre attivati perché alcune volte non lo sono e vi faccio un'esplosione di addio di ciao nel senso voglio solo distruggere l'auto voglio solo distruggere quest'auto non si sta distruggendo per nulla raga signori non si sta distruggendo per nulla allora mi fa sparare da qualcuno non lo so comunque ciao ragazzi